inizialmente da applicare, però facevo adesso una riflessione mentre eravamo qui insieme e ascoltavo le chiave che avevo letto e tutta la conduzione così come è stata organizzata e ho pensato che effettivamente siamo andati anche oltre il progetto che avevamo pianificato inizialmente perché i ragazzi sono confrontati con un'ulteriore tecnologia comunicativa e quindi è intanto l'organizzazione del evento. Perché mi confiace, ho la bravura, ho capito bene, sono stati loro, organizzando questa giornata che mi ha seguito delle fasi, eccetera, non avevo nulla su alcuni loro, ho individuato alcuni soggetti che sapevano che potevano essere bravissimi e quindi complimenti anche alla professoressa che lo ha organizzati. E poi bellissimo anche il fatto che siete confrontati con Mauro Allegrini che ce l'abbiamo in Planea però insomma ha tornato un'inistenza insieme a noi nell'organizzazione anche con la fase espositiva e quindi hanno lavorato in questo momento anche con le esposizioni interoperate, a trale che insomma è una metodologia di comunicazione, un riguardo di comunicazione importante tanto quelli che annusceranno attraverso il testo scritto e attraverso la comunicazione visiva. Non me l'aspettavo di fare queste riflessioni, davvero complimenti anche all'ambito della scuola. E' stato già detto praticamente un po' tutto quello che ha conto le varie fasi di sviluppo di questo progetto. Mi preme sottolineare un po' anche come la metodologia con la quale noi abbiamo fatto lavorare i ragazzi. Ci siamo trovati intanto a dover affrontare anche delle difficoltà logistiche, ma questa è stata che l'abbiamo risolta anche brillantemente perché considerate che abbiamo lavorato con 140 ragazzi nella aula magna del liceo, insomma dove la tonorizzazione non è proprio eccezionale, però la cosa l'abbiamo insomma affrontata come una, come si dice fare, del difetto virtù, insomma. Nonostante che non abbiamo potuto così tanto nella fase di illustrazione comunicare verbalmente e quindi dare una base teorica sulla quale potremmo sviluppare il nostro lavoro, siamo passati direttamente all'operatività e quindi i ragazzi si sono confrontati con la tecnica, ma andando oltre la tecnica perché insomma l'acquarello era stato scelto come tecnica illustrativa perché ci sembrava in modo più facile e in un contesto di così tanti soggetti, insomma quello unico da poter potenzialmente utilizzare, ma non ci sono stati limiti in quanto a questo perché veramente in certi momenti, anche grazie alla draugola dei colleghi che mi hanno aiutato in aula, i ragazzi hanno utilizzato le matite, hanno utilizzato la biega, hanno utilizzato tutto quello che c'è a disposizione. Forse l'abbiamo inizialmente un po' sconvolti perché sono arrivati tutti quanti con gli iPhone, i telefonini, nell'aula c'era un computer che l'abbiamo lasciato lì in bella vista rigorosamente spento, ma la prima cosa che abbiamo detto tutti quanti insieme era che avremmo fatto questa scelta congiunta, non so quanto era congiunta o quanto era congiunta, che non avremmo mai navigato in internet. Questo perché oggi siamo tutti quanti fruttori in una grande quantità di comunicazione visiva, no? è proprio la caratteristica della nostra cultura, viviamo di parole, viviamo di musica, viviamo di tanti mezzi comunicativi, ma la comunicazione visiva è quella che probabilmente ci aggredisce continuamente di più più di tutti gli altri metodi di comunicazione. E noi la viviamo come anche una ricchezza, perché no, però siamo solo fruttori. Invece abbiamo chiesto ai ragazzi di diventare i protagonisti della comunicazione, quindi loro si sono trovati a dover essere gli autori. Va detto, ecco, che forse non l'abbiamo precedentemente raccontato, che i ragazzi che hanno scritto le fiave, così come la dottoressa Massigna ha appena raccontato, in un crescendo di creatività interessantissimo, basandosi su una tecnica, però in un metodo anche, credo, personale, ma a certi momenti sono stati capaci di sviluppare. I ragazzi appunto che erano autori dei testi sono stati messi da una parte e abbiamo costruito dei gruppi in cui rigorosamente le fiave che abbiamo dato al gruppo da illustrare erano date al gruppo dove non c'era l'autore del testo. Questo perché non volevamo un condizionamento, perché volevamo che i ragazzi che illustravano, a volte gli stessi che avevano anche scritto il testo, fossero liberi dal condizionamento dell'essere anche i protagonisti del testo scritto, quindi perché loro potessero riviorentare, rianalizzare, rielaborare nuovamente con questa nuova forma di comunicazione che era la comunicazione visiva. Qualche volta vedevo che gli autori dei testi davano un'occhiata al gruppo che seguiva, che faceva la comunicazione visiva, in qualche caso alcuni degli autori dei testi erano seriamente preoccupati, si erano seriamente preoccupati, si lamentavano, io non ho mai dire ma quel personaggio stava sviluppato in un modo ragazzo come io l'avevo immaginato, quindi l'abbiamo messi anche di fronte alla capacità di capire che a volte anche la capacità dell'autore poi può essere riorganizzata dal cuore autore che è l'illustratore del testo. Questo è quello che viene sempre in editoria, no? Quindi senza usare tante parole abbiamo sperimentato insieme questa evoluzione un lavoro che è composto da metodi di comunicazione diversa. I ragazzi sono stati molto drani anche in questo e devo dire che con i colleghi con i quali abbiamo condiviso questa esperienza siamo stati in qualche caso anche meravigliati del fatto che alcuni gruppi che erano partiti un po' più in sordina, con qualche difficoltà tecnica in più, anche con qualche difficoltà analitica in più, in realtà poi sono arrivati all'obiettivo per cui nessuna delle fiale che avevamo scelto di illustrare poi è stata meno delle altre, illustrata meno bene delle altre per cui anche i gruppi che inizialmente ci avevano più difficoltà in realtà sono arrivati ad un obiettivo interessante, bello e direi che è così, che tutte le illustrazioni che abbiamo ottenuto erano degne del risultato atteso. Che altro dire, per noi dell'associazione è stato altrettanto un momento interessante, un momento importante di collaborazione con il mondo dei giovani, che insomma il mondo della comunicazione visiva da questo punto di vista non ha veramente limiti, a volte va letto, grandi artisti si trovano a lavorare con artisti in erba e che potenzialmente ci hanno delle potenzialità enormi anche oltre quelle di lavorare da tanti anni. Non è un peccato dirla questa cosa, è anzi una grande opportunità. È bello che la scuola permetta anche a noi associazioni di entrare in cooperazione con questi ragazzi giovani, di fare in modo che anche noi ci possiamo mettere a disposizione per sollicare qualche talento. e mi augurerei, ma penso che lo faremo, di poter coinvolgere, e continuare dal progetto, questo si ne va a omocanzi con la preside, ma mi augurerei anche di poter portare alcuni di questi ragazzi nei nostri progetti, a curiosare il nostro progetto. Ma mi sono resa conto stamattina che qualcuno di loro l'hanno già fatto, perché ho visto in parte dei soggetti che durante l'estate avevo visto i workshop in pinacoteca che non avevo rimesso in relazione, essendo in uomini diversi. Quindi con piacere ho visto che la continuità, la sinergia, anche in questo caso funziona, proprio come abbiamo detto ieri, per un altro precedente evento. Ringrazio la preside, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato nel progetto, soprattutto i ragazzi, perché sono stati i protagonisti. Mi auguro che questa cosa facciateci solo e che vi serva anche come un piccolo segno, un'esperienza che possiate sviluppare anche nel corso della vostra vita, del domani, che chissà qualità le prenderà. Dai! Grazie! Grazie!